Ecco i principali interventi che prenderanno il via sulle strade di Firenze con l'istituzione di provvedimenti alla circolazione. In via di Brozzi, per un nuovo allaccio alla rete idrica, da martedì 26 aprile saranno in vigore un senso unico nel tratto via San Bonaventura-via Fraggolugovic verso quest'ultima e un ristringimento di carreggiata a cavallo del numero civico 148. Termine previsto il 2 maggio. In via della Mosca, anche in questo caso, per un nuovo allaccio alla rete idrica, istituzione da martedì di un divieto di transito da Via dei Neri a Via dei Saponai. Inoltre in via Osteria del Guanto scatterà un senso unico da Via dei Neri verso Via dei Saponai, itinerario alternativo per i veicoli diretti in Via della Mosca, tratto Piazza Mentana e Altezza Cantiere. Termine previsto 6 maggio. Sempre a partire da martedì, in via di Quarto, via Niccolò da Tolentino, inizierà la sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica. Fino al 29 aprile saranno in vigore divieti di transito in via di Quarto, da Via Niccolò da Tolentino a Via Grifeo e nella corsia, lato numeri civici pari, di Via Niccolò da Tolentino, da Via Aselli a Via di Quarto. Inoltre, in via di Quarto sarà istituito un senso unico da Via delle Panche verso Via Grifeo. Tutti gli altri cantieri sono consultabili su comune.fi.it. Grazie. 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 Grazie.